Palla a volo perché ieri sera nella prima puntata di Barbe e Capelli, il salone di Paolo Reggianini ha ospitato il nuovo presidente di Modena Goal Volley Valsa Group, Giulia Gabbana. Insieme a lei il nuovo direttore sportivo Alberto Casadei. Sentiamolo, cosa ci ha detto nella sua nuova esperienza e sulla squadra giallo-blu? È un grande piacere essere direttore sportivo di questa squadra, in realtà è un sogno, sono fortunato nella vita, posso dirlo. Quindi questo è un altro sogno della mia vita che si realizza e si concretizza in un passaggio di proprietà come abbiamo appena raccontato con una società che apre un nuovo scenario su una prospettiva a lungo termine, su una base che può vantare di ragazzi che sono cresciuti dal vivaio. Quindi diamo valore al lavoro che si fa quotidianamente da tanti anni sul settore giovanile e sul territorio. Abbiamo questa squadra divisa, diciamo così, tra una parte di giovani di punto nostri, sui quali puntiamo tantissimo, giovani che vengono da fuori, sui quali abbiamo una grande attenzione nel conservarli, nel non bruciarli, diciamo proprio quello che va detto, e l'esperienza di quei giocatori che conoscono già l'ambiente, dai quali sappiamo già che cosa va a aspettarci. Vado oltre perché ho proprio l'esigenza quest'anno di ritrovare, ma in tutti i componenti di Modena, dal pubblico alla stampa, quell'amalgama che io ho vissuto in una stagione che non faccio il paragone a questa, però è stata nel 2012. Quell'anno lì si è creato un'amalgama incredibile tra la città e la squadra. Io mi auguro, nel mio sogno c'è questo, quindi quello che mi immagino è quest'anno fare un lavoro, che è un lavoro quotidiano, che partirà magari dalla presentazione di domani sera, che è già partita in realtà, per far sì che la città e voi, chiunque, insomma, possa riabbracciare la squadra, sostenere la squadra e emozionarci.